Giornata di feste oggi in provincia di Catania, in onore a San Mauro Abate, a Daci Castello e a Via Grande, le comunità sono impegnate nei festeggiamenti al loro comune santo protettore. Il vescovo di Acireale è presidente della conferenza episcopale siciliana, Monsignor Antonino Raspanti, stamattina ha presieduto la solenne celebrazione all'interno della chiesa castellese. San Mauro ha detto Raspanti durante l'Omelia ha legato la sua vita a una regola che nella mentalità odierna sembra porre dei limiti alla libertà. La regola invece fortifica la persona e non la mortifica, sottolinea l'umiltà umana che mette l'uomo davanti ai propri limiti.